Buongiorno, buongiorno e ben Siamo ritrovati di prima mattina, venerdì 29 luglio 2022. Anche questa mattina iniziamo con la nostra segna stampa, apriamo così i nostri spazi di informazione, andando a leggere insieme quali sono le notizie, i titoli principali pubblicati sui quotidiani che trovate oggi in Edicola. Ovviamente leggeremo insieme il centro ed il messaggero, l'edizione abruzzese del messaggero. Andiamo a dare subito lo sguardo alle prime pagine dei due giornali, iniziando proprio da quella del centro, che sull'edizione di Teramo riporta questa grave carenza, questa vera e propria emergenza che riguarda la donazione del sangue. Infatti, secondo quanto denuncia e rende noto la FIDAS, l'associazione dei donatori di sangue, le donazioni sono crollate e dunque c'è carenza delle scorte di sangue. L'ospedale sarebbe in difficoltà, tant'è che appunto la FIDAS parla di un'emergenza grave. Poi vedremo meglio all'interno quali sono i termini di questa emergenza. Nel taglio centrale invece la grande foto centropagina sulla situazione che da settimane ormai sta coinvolgendo Strada dei Parchi, le autostrade abruzzese a 24 e a 25 con la guerra, la possiamo definire così, tra il governo e Strada dei Parchi. Il Tar ha di fatto segnato un altro punto a favore di Strada dei Parchi perché ha confermato la sospensiva della revoca della concessione da parte del governo e quindi ha fissato l'udienza di merito per il 20 settembre. Fino a quel giorno, quindi la gestione di a 24 e a 25 resta a Strada dei Parchi. Altri argomenti, altri titoli che invece ci riportano a Teramo. C'è la questione dello stadio Bonolis con il gestore Franco Iachini che chiede il risarcimento. L'ex presidente del Teramo Calcio si rivolge all'ANAC per avere il pagamento dei danni dal comune. Ovviamente il motivo del contendere è la mancata approvazione del nuovo PEF, piano economico finanziario. Dunque Iachini ora passa alle carte bollate per vedersi riconosciuti i suoi diritti, quelli che ritiene essere i suoi diritti. Di spalle invece le cronache da Pescara. Il caso che è arrivato fino alle cronache nazionali. Di violenza in palestra, una ragazza presa a botte da un energume, vedete anche un frame del filmato, delle camere interne di videosorveglianza che hanno ripreso l'accaduto. L'appello di chi ha assistito alla scena è anche della titolare della palestra. Fermate subito quell'uomo. Tornando invece in provincia di Teramo, a Colonnella è stato arrestato un uomo, residente a Tortoreto per la verità, che ha rapinato nei mesi scorsi la sala slot dove nello stesso giorno aveva giocato ai videopoker e aveva perso una ingente somma di denaro. Andiamo con altri titoli, gli ultimi, dalla prima pagina del centro. Qui siamo sullo sport. Il taglio basso con la situazione del Teramo Calcio. La Serie C rinvia il calendario. Infatti il ricorso al TAR del club bianco-rosso congela i ripescaggi. Il TAR ha concesso la sospensiva sulle esclusioni di Teramo e Campobasso. E di fatto la Lega Pro ha rinviato la data dei calendari che era fissata inizialmente al 2 agosto ma proprio quel giorno si discuterà il ricorso al TAR e quindi la Lega ha rinviato il sorteggio al 5 agosto. Nei mesi scorsi c'erano stati scontri all'esterno dello stadio Fadini di Giulianova tra tifosi locali e del Lanciano. Sono scattate le diffide per 12 tifosi. E poi altre situazioni delicate, quella riguardante gli infermieri. La carenza del personale infermieristico alla ASL di Teramo. 90 assunzioni bloccate dai ricorsi. Con questo sguardo generale abbiamo quindi dato questa panoramica della prima pagina del centro. Sugli altri titoli ci torneremo meglio all'interno. Adesso invece andiamo a dare subito uno sguardo alla prima del messaggero con l'apertura dedicata al caso del paziente teramano per la precisione di Tortoreto che è stato individuato come primo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo. Il paziente migliora, e questo è il titolo ad apertura del messaggero, un quarantenne di Tortoreto e l'uomo infettato dal virus delle scimmie era stato a Madrid. Il caso è stato scoperto dalla dottoressa Antonella D'Alonso che è la responsabile delle malattie infettive di Teramo. La stessa dottoressa fu la prima di individuare il Covid in Abruzzo. Altri titoli. Qui ritroviamo la notizia di cronaca riguardante la rapina alla sala slot di Colonnella. Perde al videopoker e appunto rapina alla sala slot per rifarsi della somma persa al gioco, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'altro titolo invece ci porta sul Monamo, è stato nella sede della CGL mentre prepara la pratica. Un giovane accusa un sindacalista che poi è stato picchiato durante una rappresaglia, quindi una vicenda molto complessa, articolata, che deve ancora essere del tutto chiarita. Molto probabilmente ci sarà un incidente probatorio con un confronto tra le parti. Nel taglio basso anche il messaggero in prima pagina riporta la notizia che riguarda le autostrade. A 24 e a 25 il TAR accoglie il ricorso di strada dei parchi, udienza a settembre. Quindi sospensiva confermata e per ora ANAS non subentrerà nella gestione delle tratte. Anche qui sulla prima del messaggero ritroviamo il caso dell'aggressione in palestra a Pescara. Botte in palestra, la titolare sporge denuncia contro l'aggressore. Anche il messaggero pubblica un fermo immagine delle telecamere di video sorveglianza. Per quanto riguarda invece il calcio Serie C, il Pescara sogna il grande colpo con il corteggiato Schenetti, il Delfino punta il trequartista, primi contatti con il suo agente. Il Teramo invece spera ancora di vedersi riammesso in Serie C. La Lega Pro rinvia i calendari in attesa dell'udienza del TAR. Questa era la prima pagina del messaggero. Adesso noi invece torniamo sul quotidiano Il Centro e iniziamo a sfogliare le pagine interne con il primo piano dedicato proprio alla battaglia legale tra strada dei parchi e governo. Quindi ripartiamo da qui. Il TAR ha deciso a 24 e 25 restano a strada dei parchi per il momento, fino al 20 settembre, quando si tratterà nel merito la revoca della concessione. Vediamo qualche altro dettaglio. Anche le banche hanno partecipato all'udienza con tre istituti bancari che si sono schierati contro il governo davanti ai giudici. Ma intanto il Senato dà il via libera al decreto anti strada dei parchi, approvato il DL Infrastrutture, qui è stato accorpato l'atto di revoca. Ora la palla passa alla Camera. Altri temi che riguardano la nostra regione. La sanità. C'è stato il via libera da parte della regione, in particolare l'assessorato alla salute di Nicoletta Veri, per l'assunzione degli OS, gli operatori sociosanitari. Ora le ASL potranno farli entrare in servizio. Dunque ha avuto un buon esito la protesta che nei giorni scorsi si è svolta anche, anzi, si è svolta soprattutto a Teramo, davanti all'ospedale, dove tutti gli osso abruzzesi vincitori di concorso hanno ribadito la loro volontà di entrare subito in servizio. La situazione invece è legata alla pandemia in Abruzzo, il Covid, contagi in calo, in aumento però i morti. Dall'inizio della pandemia ha superato il mezzo milione di positivi. Negli ultimi sette giorni sono stati 9 gli accessi in terapia intensiva e oggi l'occupazione dei posti letto nelle rianimazioni è pari al 4,4%. Solo negli ultimi tre giorni si sono registrati però ben 36 decessi, anche se molti fanno riferimento alle settimane precedenti. L'altra situazione che fa stare in allerta, quella legata al vaiolo delle scimmie, il primo ed unico finora paziente abruzzese, che è il terramano quarantenne di Tortoreto, migliora. L'uomo è rientrato dalla Spagna dove avrebbe contratto il virus, il primario di malattie infettive d'Alonso dice la terapia funziona. Ci spostiamo subito su altre pagine che riguardano il nostro territorio ed eccoci a Teramo con l'appello della Fidas. Emergenza, sangue, crollano le donazioni, non c'è più sangue in ospedale. Il Mazzini è in difficoltà. La Presidente Gabriella Di Egidio spiega che il calo è dovuto al caldo forte e ai contagi del Covid. Ora, dice sempre Gabriella Di Egidio, chiediamo al centro regionale di permettere ai nuovi iscritti di donare subito e dunque, come dire, di accelerare le procedure dal momento del primo accesso al centro trasfusionale per sottoporsi alla donazione con le visite sullo stato di salute che si fanno ovviamente per controllare chi vuole iniziare a donare e l'effettiva prima donazione. Attualmente c'è un periodo di tempo da attendere. La Fidas chiede che questa procedura si accorci per permettere agli aspiranti donatori di poter donare subito il sangue. Proseguiamo con altri titoli. Gran Sasso, allontanati tutti gli idrocarburi, i laboratori di fisica nucleare chiudono l'esperimento Borexino, seguirà la dismissione dell'apparato. Ancora, il caso, anzi, prima c'è la notizia che riguarda Torricella Sicura che oggi pomeriggio inaugurerà il nuovo municipio ricostruito dopo il sisma, costato 3,8 milioni, e il primo grande edificio pubblico realizzato nel cratere. Il sindaco Palumbi dichiara, comincia la rinascita. Dà appuntamento a partire dalle 18.30, con tanti big della politica, come ovviamente il commissario della ricostruzione Legnini, il presidente della regione Marsiglio, il senatore D'Alfonso, e poi ci sarà anche la benedizione del vescovo Lorenzo Leuzzi. Quindi giunge a termine questa importante opera pubblica della ricostruzione. Parliamo ancora di sanità. con l'estate difficile del personale nella ASV di Teramo. Assunzioni bloccate per 90 infermieri a causa dei ricorsi. La ASV spiega che rispetto al caso degli OSS, che come abbiamo visto, come dire, ha trovato una soluzione perché saranno a breve assunti, la situazione degli infermieri è più difficile perché c'è chi ha chiesto di annullare l'intera prova e quindi l'ASV dice di essere bloccata dai ricorsi che potrebbero addirittura portare all'annullamento del concorso e quindi a dover ricominciare da capo, di fatto, per individuare e selezionare i 90 infermieri necessari alla nostra sanità. Altro argomento che riguarda la salute pubblica. In Valfino i sindaci ottengono una postazione del 118 anche di notte. C'è stato un incontro presso la ASV con la direzione strategica e i sindaci quindi della vallata hanno chiesto e ha ottenuto anche l'impegno del direttore di Giosia ad avere una postazione attiva del primo soccorso anche nell'orario notturno. Cambiamo argomento. Il caso Bonolis, lo stadio di Teramo. Piano finanziario. Iachini chiede danni al comune. Il gestore si rivolge all'autorità anticorruzione per sbloccare la revisione dei conti per l'impianto. Chiesti l'aggiornamento delle somme e anche un risarcimento. L'ente si affida ad un pool di avvocati milanesi. Quindi ormai è scontro aperto sulla vecchia questione del PEF che il Consiglio Comunale non ha mai approvato e quindi non ha mai rivisto secondo le indicazioni giunte dal gestore. La provincia. Ieri c'è stata l'approvazione del conto consuntivo del 2021. Avanzo di oltre 3 milioni di euro. Consiglio e Assemblea dei sindaci varano appunto il consuntivo. Votano no però i comuni di Teramo contro il Guerra e Castelli. L'amministrazione è presente i risultati realizzati. Lavori finanziati per le strade, mentre sono tanti i progetti per le scuole. Buffera politica invece attorno alla figura del presidente del BIM, Giuseppe D'Alonso. La richiesta del sindaco di Campli, Agostinelli. D'Alonso ora si dimetta. Agostinelli dice persa la fiducia. Il presidente intanto rinvia l'assemblea che era prevista per la giornata di ieri e parla di accuse infondate. Nel Mirino ci sarebbero degli affidamenti che D'Alonso avrebbe deliberato, affidamenti diretti ad alcune, insomma, un paio di affidamenti ad una ditta di cui sarebbe responsabile un parente dello stesso presidente D'Alonso. Però, ovviamente, come leggiamo nell'articolo, il presidente del BIM respinge le accuse. Nel taglio basso, invece, un bilancio della rassegna Virtue Estive organizzata dal comune di Teramo nell'ambito di Teramo Natura Indomita, scommessa vinta. Così gli organizzatori che fanno un bilancio parlando di 500 presenze ogni sera alla rassegna sull'enogastronomia sostenibile. Andiamo ancora avanti. Eccoci alla cronaca che ci porta in Val Vibrata, colonnella, rapina la sala slot dove ha perso, scoperto grazie alle telecamere. Blizza alle 5 nel locale dove era stato la sera prima, il fatto era avvenuto nel mese di aprile, minaccia una dipendente e fugge con l'incasso, smascherato dalla videosorveglianza e tramite le impronte digitali. È finito, dunque, in carcere un tortoretano. I carabinieri hanno scoperto, quindi il responsabile della rapina. A Martinsicuro tanta paura ieri, ma fortunatamente solo lesioni lievi, auto travolge un bambino in bicicletta all'incrocio. Mentre nel taglio basso troviamo le polemiche che ad Alva Adriatica si stanno accendendo riguardo al destino della Pineta. Il Comune ha spiegato come salverà la Pineta con un incontro, una conferenza a cui hanno partecipato giunta e tecnici per difendere il progetto della nuova ciclabile che prevede l'abbattimento di 205 pini e poi, come dire, ne verrebbero ripiantati anche di più, 516 in altre zone sempre del lungomare. Il progetto riceve l'appoggio di Lega Ambiente. Vi annuncio che parleremo di questo argomento piuttosto diffusamente anche nel corso della puntata di questa mattina alle 9 di Accolazione, quando saremo proprio ad Alva Adriatica. avremo ospite con noi Giuliano Marsili, presidente della Task Force Ambientale che si oppone proprio a questa soluzione del taglio dei pini. Andiamo ancora avanti con i titoli dal centro. Giulianova, pioggia di daspo sulle tifoserie proprio della squadra di casa e del Lanciano. La questura infligge di vieti di accedere alle manifestazioni sportive a 4 giugliesi e 8 frentani per gli scontri avvenuti il 13 marzo all'esterno del Fadini. I provvedimenti variano tra 7 e 8 anni quindi davvero mano pesante, pesantissima della questura sui tifosi violenti. Sempre a Giulianova strutture abusive in un lido vanno rimosse. Questa è l'ordinanza del comune che dispone lo smantellamento di container, ombreggi e recinzioni non autorizzati allo stabilimento, allo chalet Bagni Riviera. Nel taglio basso un bilancio del mercato del giovedì. Qui si parla di un giovedì dimagra, vendita e rilento anche se gli esercenti sono contenti della nuova collocazione. A Roseto invece si parla del patrimonio culturale che da tempo è stato spostato dalla villa comunale per permettere lavori di ristrutturazione dell'edificio. Sono ben 6 anni che c'è stato questo trasloco ma che secondo l'esperto uomo di cultura, ex dipendente del comune Mario Giunco sarebbe ormai da buttare perché secondo l'ex responsabile dell'ufficio cultura del comune opere e libri abbandonate all'autoporto dal 2016 si sono rovinati. Non c'è stata attenzione. Il sindaco però assicura il ritorno in sede di alcuni oggetti. A breve, per le frazioni sempre di Roseto partita la manutenzione, interventi a Colonia Paese e Montepagano dopo le proteste. Il vice sindaco Marcone assicura che l'anno prossimo si comincerà prima con i lavori. Andiamo a chiudere con le pagine della provincia di Teramo. Siamo a Silvi. Sicurezza stradale, lungomare centrale scatta la zona 30 per evitare incidenti. Da oggi in vigore il limite di velocità ridotto per tutti i veicoli. L'assessore Giuseppina Di Giovanni spiega in quel tratto tanti incroci e passaggi pedonali. Diamo uno sguardo anche ai principali titoli dagli altri territori abruzzesi anche perché riprendiamo delle notizie che abbiamo già accennato in prima pagina. Pescare, il video shock che mostra l'aggressione in palestra una ragazza presa a pugni da un uomo, un cinquantenne la titolare che lancia un appello fermata è quell'uomo lo sfogo della proprietaria del centro fitness immagini raccapriccianti ma lui è libero di fare danni. Tante le reazioni dopo il caso sollevato proprio dal giornale dal centro la giovane picchiata non ha denunciato l'aggressore secondo la criminologa interpellata Margherita Carlini che ha ovviamente visto anche le immagini del circuito chiuso della videosorveglianza l'aggressore può far male a tutti se è trattata di furia cieca quel soggetto è socialmente pericoloso. Andiamo a Montesilvano in vendita il palazzo di Via Lazio a sta da 1 milione e 400 mila euro si ha le offerte il comune di Pescara proprietario di 5 piani tenta di dismettere gli appartamenti in blocco è possibile partecipare fino al 14 di ottobre all'Aquila invece rimarrà chiuso e non riaprirà l'asilo dove si è consumata la tragedia del piccolo Tommaso il bimbo morto dopo essere stato investito dall'auto che si era sfrenata aveva travolto il cancello di ingresso della struttura i bambini saranno trasferiti in altre sedi dunque non riapriranno i battenti a settembre le attività didattiche attive nella struttura comunale di Pile il comune in cerca di soluzioni alternative i piccoli del nido resteranno invece nei moduli di Via Ficara per la visita del Papa prevista il 28 agosto all'Aquila saranno sospese le messe mattutine la disposizione del Cardinale Petrocchi vale per tutte le chiese del Diocesi l'unica celebrazione sarà quella del Pontefice che poi aprirà la Porta Santa per la perdonanza celestiniana a Chieti la sanità all'ospedale Santissima annunziata carenza di posti letto nei reparti stop ai pazienti da ricoverare allarme per i locali di degenza pieni in ospedale il pronto soccorso avvisa le centrali operative del 118 ci sono serie difficoltà garantite solo le urgenze indifferibili è necessario portare i malati altrove per quanto riguarda invece il grande appuntamento con il Giova Beach Party di Vasto pronti tre parcheggi in prefettura a vertice sui concerti il doppio concerto del 19 e 20 agosto coinvolti i comuni vicini da San Salvo ok ad un'area di sosta e possiamo ora andare ad occuparci dello sport delle pagine sportive del centro con il Pescara il mercato del Pescara che cede Borrelli e dà l'assalto a Gabrielloni la punta Borrelli va al Frosinone e il Delfino mette nel mirino il bomber del Como tanti movimenti e come dire gli intrecci di mercato che coinvolgono il DS del Pescara e degli Carri in serie D invece la vastesa ingaggia Majorano e Romeo Serra prende il 30% del Chieti in eccellenza Corticchia ex Castelnuovo verso l'Aquila per quanto riguarda il Teramo invece i biancorossi rispettano il Tar e la Serie C rinvia il calendario in attesa dell'udienza di martedì la FIGIC posticipa i ripescaggi che coinvolgerebbero Fermano e Torres e la Lega Pro sposta venerdì 5 agosto la presentazione della nuova stagione quindi non si procederà con la X e la Y dal posto di Teramo e Campobasso ma si attenderà direttamente la pronuncia del Tar altri sport il basket ha due donne Laran Roseto si assicura il play Mitreva mentre in serie B maschile la rinnova Teramo piazza un altro colpo c'è il pivot Cianci per la pallamano Teramo Pescara e Lions verso il debutto ecco i calendari maschile in campo il 3 settembre il 10 invece al Via il campionato femminile e chiudiamo con la pallavolo di serie B svelati i gironi delle 5 squadre avruzzesi al Via il Montorrio nel raggruppamento E l'altino femminile va nel gruppo D e in B2 tutte nel girone L E dunque è tutto per la pagina sportiva del quotidiano Il Centro adesso ultimi minuti della nostra segna stampa dedicati al messaggero con la lotta al virus in Abruzzo ripartiamo dalla sanità covid i contagi superano il mezzo milione di casi totali dall'inizio della pandemia adesso aumentano soprattutto i morti 20 decessi però con riallineamento dei casi relativi anche ai giorni precedenti in un solo giorno secondo il bollettino diramato dalla Regione la politica verso le elezioni del 25 settembre nel centro-destra due seggi in realtà il titolo contiene un errore perché poi nell'articolo è spiegato ovviamente meglio due seggi saranno nel centro-destra riservati a Fratelli d'Italia uno a testa Forza Italia e la Lega questa secondo la ripartizione nazionale dei seggi che nei giorni scorsi ha trovato l'accordo dei leader dei tre partiti della coalizione di centro-destra più complesso il risico nel centro-sinistra con i partiti ancora in cerca di alleanze e quindi bisognerà attendere per la composizione delle liste a Pescara ritroviamo il caso del pestaggio in palestra ai danni di una ragazza la titolare chiedo giustizia la vittima sotto shock è in attesa di cure in ospedale è stata esortata a denunciare il cinquantenne di origini albanesi l'ha colpita con calci pugni anche minacciata con una sbarra di ferro loro sanno perché però insomma ci saranno delle indagini che dovranno fare luce su quanto accaduto andiamo all'Aquila il filo rosso che lega le nuove piazze il vice sindaco Daniele progetti di riqualificazione in linea con quanto accade in Europa turisti guidati nella visita si parla dei grandi progetti di riqualificazione del centro storico dell'Aquila che sta rivedendo la luce dopo il sisma del 2009 a Sulmona molesti al sindacato doppia denuncia ragazzo di 18 anni dice di essere stato aggredito sessualmente quando si è recato al patronato per la pratica di disoccupazione il funzionario della CGL accusato nega tutto in serata sarebbe stato poi atteso da 5 persone e picchiato la procura ha disposto un incidente probatorio a Chieti si parla invece della casa dello studente posti letto e alloggi bando da 11 milioni la residenza sarà realizzata nella ex caserma Pierantoni potrà ospitare 149 universitari con più soluzioni abitative il caso invece che si è verificato a Lanciano i tavolini conquistano la cattedrale fuori inizia a piovere il ristorante apparecchia per i turisti francesi nel porticato di Madonna del Ponte arriva la polizia allertata dall'assessore comunale al commercio e fa sgomberare i tavoli il sindaco parla di inciviltà ignoranza non deve accadere più e anche l'arcivescovo prende posizione spazio sacro ma non c'è stata cattiveria intervenuta la proprietà del locale che ha chiesto scusa ma sono stati clienti stranieri a spostare da soli i coperti questa è la giustificazione adotta dai ristoratori ed eccoci a Teramo invece con la conta dei danni dell'ondata di maltempo dell'altro giorno di mercoledì pomeriggio palazzo scoperchiato e grandine danni per migliaia di euro le devastazioni provocate dalla tromba d'aria di mercoledì e poi i danni anche all'agricoltura con l'incognita per le culture che sono andate completamente perdute ieri la provincia ha provato il bilancio con oltre 3 milioni di avanzo abbiamo già visto per il presidente di Buonaventura il rammarico e soltanto per gli impianti di Prati di Tivo che come sapete sono ancora bloccati nel taglio basso si parla del futuro della Coppa Interamminia ci sarà l'avvocato Carlo Antonetti a capo dello staff di questa task force per il rilancio della Kermess che il prossimo anno taglierà il traguardo dei 50 anni e quindi questa sorta di commissione di esperti dovrà fare in modo che si possa organizzare l'edizione del cinquantennale il caso del vaiolo delle scimmie il quarantenne infettato è di Tortoreto era andato a Madrid per lavoro la mamma in isolamento lui ricoverato al Mazzini in buone condizioni di salute è stata la dottoressa Antonella D'Alonso responsabile delle malattie infettive a capire che si trattava del virus delle scimmie fu proprio lei che trovò anche il primo caso di covid in Abruzzo la cronaca di cui ci siamo già occupati perde una forte somma ai videopoker poi tenta di rapinare la sala scommesse è accaduto a Colonnella il malvivente è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza a Giulianova ladri nella chiesa di San Pietro svuotate le cassette delle elemosine malviventi in agguato anche sotto gli ombrelloni numerosi colpi dall'inizio della stagione estiva andiamo a chiudere con lo sport il pescara sogna il grande colpo Schenetti nel mirino del DS dell'Icarri ma la concorrenza è agguerritissima l'attaccante Borrelli saluta il Delfino cessione a titolo definitivo al Frosinone la FIGC e la Lega invece aspettano il Teramo rinviati la composizione dei gironi e i calendari in attesa di capire le sorti del club bianco-rosso il 2 agosto martedì ci sarà l'udienza al TAR che metterà la parola fine in un senso o nell'altro alla vicenda legata alla mancata iscrizione del Teramo Calcio in Serie C di spalla si parla invece del Giulia Nova ai nastri di partenza nel prossimo campionato di eccellenza che sogna la promozione in Serie D ieri pomeriggio l'inizio della preparazione con il raduno della squadra allenata da mister Cerasi chiudiamo con il basket a due chieti altro acquisto Vranchic chiude il mercato e l'ultima notizia di cui vi diamo conto sulle pagine sportive del messaggero e dunque terminiamo qui la nostra rassegna stampa che tornerà domani mattina come sempre alle ore 7 noi invece ci vediamo più tardi alle 9 a colazione grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie a tutti